Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Sentimenti positivi, spero dopo la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. La società è immersa in un torpore dove c'è molta freddezza e poche persone si salvano per il loro benvolere. Vorremmo davvero rinascere cercando dei degni accorgimenti per salire in alto, per cercare qualcosa di positivo. Rinascere con amore dando valore ai valori è uno di tanti segnali e dei molti operati che potremmo mettere in pratica, se solo lo vorremmo. Sentimenti positivi ci saranno quando otterremo dei vivi atteggiamenti, degli operati grandiosi. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Sentimenti positivi. La società è nel torpore, tutti sono freddi, vorremmo davvero rinascere cercando dei degni miraggi. Rinascere con amore, dando valore ai valori, cercando di abbattere il male che ci offende nei tristi operati. Sentimenti positivi saranno i lieti e vivi atteggiamenti che con l'ode compiremo per risolevarci e renderci più veri. Grazie, condividete.